bella tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video sono xuder e oggi ragazzi e dai e dai c'è la sfida leggendaria di clash royale quante leggendarie avete voi su clash royale porca miseria ditemelo qua scrivetemelo qua qual è anche la vostra leggendaria preferita la mia è il mago di ghiaccio quindi oggi ragazzi nella sfida leggendaria 12 vittorie ci separano dal baule leggendario e ho detto xuder perché fare un video con il miglior deck allucinante esagerato no ho deciso di usare ragazzi i migliori deck facili da usare nella sfida per riuscire ad avere la meglio rispetto ai nostri avversari quindi guardando un po di match sul canalone di alcuni youtubers di un certo peso ho estrapolato tre deck che secondo me vale la pena provare e che comunque sono stati ragionati e in campo si comportano molto molto bene non ci perdiamo in blandume ragazzi andiamo subito a vedere il primo deck siamo contro viking dei neon ordadis di goblin zap ordadis gherry golen del ghiaccio e minor sono le prime cinque carte a disposizione aspettiamo un attimo che salga l'elisira 10 giù subito con il golen del ghiaccio in apertura sinistra risposta ottima da parte sua ottima per noi con un quintetto di pipistrelli andiamo anche con la gang di goblin a fare un po più di danno e via subito i pipistrelli subito un bel minor control sulla destra cavaliere sulla sinistra per il nostro avversario e il minor va ad attaccare essendo loccato dalla torre lei il lancere può lanciarne quattro attenzione al gran cavaliere abbiamo lord di sgherry eccezionale per il caballeros anche perché non può essere zappata nella modalità invece sì nella modalità con le carte da torneo mentre può essere frecciata intanto log rider avversario ci ha legnato di brutto ma noi abbiamo la gang per andare a difendersi e come vedete abbiamo fermato anche il caballeros 1158 la nostra torre in basso a sinistra 2092 la torre in alto a destra è un deck che si deve usare assolutamente una volta piazzato giù l'estrattore di elisir che ci darà il vantaggio necessario per andare a devastare le torri avversarie miner giocato molto corto in deviazione del suo cavaliere miner molto interessante giocato anche in questo modo che comunque ha un bel po di punti salute per poter andare a counterare e al posto che un tris ragazzi andiamo subito giù con un tris di moschettieri al posto che un estrattore volevo dire lui apre con le guardie noi abbiamo i moschettieri che possono tranquillamente andare a fare il loro lavoro e la nostra torre a sinistra rimane a 96 ma è subito pronto il nostro arete da battaglia come apertura davanti anche l'ice golem e lui gioca a 7 di elisir per il gran cavaliere che va assolutamente counterato il prima possibile attenzione al drago inferno che va a loccare la riete e il moschettiere da solo dietro ragazzi devastante sul drago inferno per un pelo no riesce a tirarlo giù ragazzi rimane salvo grazie alla zap e vanno a tirare giù la torre non è finita situazione quasi ribaltata due torri per noi una torre per il nostro avversario la nostra è rimasta 96 come prima quindi inviolata la sua è andata giù di nuovo il tris di moschettieri quello da solo va a tirare giù il cavaliere ragazzi attenzione al suo prossimo attacco le guardie non ci danno problemi ok gran cavaliere per lui andiamo a deviarlo con un golem del ghiaccio meraviglioso meraviglioso attenzione al moschettiere la riete per un pelo non impatta sulla torre gang di goblin giocata dietro e moschettiere che ha già tirato cinque colpi subito il minor control vallo a tirare la dietro ragazzi molto bene e di nuovo apertura coi tre moschettieri che vanno sullo gradere poi si sposteranno sul drago inferno lui obbligato a danneggiare dalla distanza nostra torre in basso a sinistra quindi spreca 5 di elisir 2 per la zap e 3 per le frecce subito l'apertura orda e a riete da battaglia devastanti questi sgherroni ragazzi devastanti anche i due moschettieri che vanno a tirare via tutto e guardate cosa è successo guardate cosa è successo è liberissimo tutte le nostre truppe sono liberissime di andare a tirare giù la torre ragazzi e di portarci il risultato a casa bello bello questo deck ragazzi abbiamo avuto bisogno solo un attimo dell'estrattore di elisir ma non è stato in realtà la chiave di volta del match come avete visto tre moschettieri giocati in difesa e poi tutto davanti per andare a devastare le truppe avversarie subito al secondo ragazzi lo stiamo vedendo siamo contro sam daytoni stark principe poison zap guardie e mega sgherro le cinque carte a nostra disposizione aspettiamo di arrivare a 10 e poi si va subito giù a poisonare la sua fornace insieme alla torre non c'è nessuna fretta non c'è nessuna fretta vediamo un pochettino un paio di scambi wow wow spirito del ghiaccio insieme a quelli del fuego ci sta la zappetta ci sta la zappetta siamo ancora full elisir ragazzi e si parte e si parte con il mega sgherro sulla sinistra nell'angolo più estremo della nostro field il campo di gioco vediamo subito vediamo subito una partenza con spirito di ghiaccio e pronto anche il nostro moschettiere dietro ok spirito che va a congelare il caballero smago elettrico intanto per il nostro dietro comincia a costruire la sua fase offensiva attenzione anche al giant meraviglioso va a deviare le guardie centrali sono veramente un'ottima distrazione per il mago elettrico lasciamo quindi moschettiere e una guardia a tirare giù il suo hog rider e come vedete già un buon stumulo di truppe si sta avvicinando alla sua torre sinistra gang di goblin il giant se ne va ragazzi attenzione al mago elettrico che riesce ad andare a tirare giù anche il mega sgherro va sul gigante ma non ce ne frega niente gigante quasi messo bene che può ancora fare male già giù il moschettiere ragazzi e attenzione anche al principe che va un attimo a dare un attacco allo grider insieme al moschettiere non concedono il secondo attacco al martello e quindi si parte con la carica del principe ragazzi si parte con la carica del principe viene congelato non ci dà problemi gang sopra moschettiere dietro e via i due lanceri con la zap moschettiere ne tira uno ne tira due 1066 pronta la poison pronta la poison già sulla sua prossima fornace vediamo se la predict entra vediamo se la predict entra bene se la sta giocando bene niente poison niente poison bisogna no invece la aspettiamo ancora ed eccola ed eccola poison leggermente giocata male ragazzi non va sulla torre causa fretta andiamo a fermare lo grider abbiamo comunque le guardie che si comportano in maniera eccezionale sul suino ragazzi lo vanno a tirare giù senza gravare così tanto sull'elisir e sui danni alla nostra torre di sinistra doppia fornace qua sì che vale la pena giocare la poison qua sì che vale la pena giocare la poison ed eccola ragazzi ed eccola poison pesantissima giocata su mago elettrico gang di goblin fornace torre avversaria insieme a guardie e moschettiere vanno a formare un attacco veramente veramente molto interessante che comunque non riesce ancora a tirare giù la torre quindi serve il moschettiere che tira giù il mango elettrico principe di nuovo grazie alla carica va a danneggiare pesantissimo il suo moschettiere andiamo di nuovo a congelare lo grider e via e via di nuovo come prima e via di nuovo come prima andiamo di nuovo con il principe per ragazzi con la poison sopra la torre di sinistra e la fornace quasi e no siamo già entrati nel sudden death mancano due minuti e 54 moschettiere ne tira ancora due ragazzi ci siamo ci siamo quasi o grider bisogna difendersi qua le guardie eccezionali non possono essere troncate non è la stessa cosa per lo spirito del ghiaccio giocato leggermente storto ma non c'è problema di nuovo ragazzi abbiamo il principe dietro che va di nuovo pesante sul giant e la poison meraviglia la poison meraviglia ragazzi guardate come va giù guardate come va giù la torre ragazzi guardate come va giù 91 64 37 e con un colpo pesantissimo del gigante siamo riusciti a tirare giù la torre meraviglioso anche qua ragazzi il tank con il gigante con il principe dietro è il secondo la seconda parte di attacco la poison può pulire tutta l'area come avete visto sua fornace ma anche su un'orda di sgherri su una gang di goblin su degli arcieri su truppe leggere e tutto il resto ragazzi è da condimento meravigliosi già questi due deck non mi sembra che ci siano dentro carte difficili da usare però mi sembra che sia doveroso dirvi ragazzi di lasciare un bel like se vi sta piacendo questo video ed iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto dai 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 che andiamo a vedere la terza partita siamo contro yohoho del clan iohoho e vediamo subito qua invece si gioca con il fantasma ragazzi quindi chi ha il fantasma deck anche per lui attenzione 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 vediamo subito l'apertura del nostro avversario con il barile il principe può essere una soluzione interessante bella la capanna dietro e si parte subito ragazzi e si parte subito con il principe davanti pipistrelli alla deviazione dell'attacco della torre purtroppo non ha senso zappare così e quindi si va leggermente sotto qua con l'attacco torre inferno che continua la sua fase difensiva di nuovo il suo suino ragazzi deviato dal goblin non va sulla capanna e ci va anche bene se volessimo dirla tutta attenzione al barile attenzione al barile ecco qua la combo fantasma barile ragazzi la combo fantasma barile mitico mitico il fantasma che va a picchiare giù duro tre legnate per il fantasma sulla sua torre e poison per noi per tirare giù il mago di fuoco ce la facciamo danneggiamo anche la torre 1736 1973 la nostra torre di sinistra pipistrelli insieme al lancere per fermare il suo barile e giù con la seconda capanna e giù con la seconda capanna ragazzi avanti così avanti così tronco non poteva anche non usarlo il pipistrelli è andato a danneggiare bene così i lanceri sponati dalla capanna possono vedersela un pochettino con gli scheletrini ma è il fantasma che fa il danno a splash la vera risorsa per riuscire a fermare questo attacco molto interessante da parte del nostro avversario 320 ma qua si riparte schedon barrel il barile di schedi ragazzi il fantasma davanti riesce ad essere evitato e parte il mega attacco con la poison fantasma e scheletrini del barile due si salvano vanno a colpuzzare la torre che con la poison ragazzi rimane a 7 un minuto ancora da giocare un minuto ancora tra poco da giocare bisogna difendersi bisogna difendersi bene così 122 rimane a 23 la torre mentre va giù la torre avversaria vediamo di stare molto attenti lui ovviamente c'è la possibilità che ci tiri giù la torre con qualsiasi scorrengina di qualsiasi truppa invece noi ripartiamo di là ragazzi il principe va sul log rider si gira di nuovo lo va a fermare il fantasma sul gran cavaliere non ha nessun problema a colpirlo mentre il barile ragazzi va avanti va avanti verso la torre colpito anche dallo spirito del fuoco 30 secondi alla fine si riparte si riparte di nuovo con un altro principe i goblin sponati aiutano tantissimo l'orda di scheletri ad andare giù attenzione allo stregone intanto ci tirano giù con un tronco la nostra torre di sinistra ma non ci fermiamo non ci fermiamo principe riesce a darne una e barile ragazzi di nuovo stanno partendo tutte le truppe pronto anche il fantasma pronto anche il fantasma guardate guardate che roba la chiudiamo qua ragazzi la chiudiamo qua col fantasma che diventa invisibile 7 36 4 79 195 e fantasma devastante sulla torre di destra questo è un pochettino più difficile da giocare ragazzi molto molto divertente comunque niente di impossibile per voi beh ragazzi questi erano tre super deck per la sfida leggendaria che è iniziata oggi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video e noi ci vediamo presto ciao 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 ciao